Scendono le tasse, va giù l'IRES che era il 27 e mezzo e va al 24. Questa IRI è una opportunità per i piccoli che oggi sono soggetti, società di persone, alla tassazione IRPEF. Seguitemi un secondo. Cosa significa? Significa che se tu sei al massimo paghi il 43, no? Oppure il 33, le varie aliquote sulle quali non siamo intervenuti. Con l'IRI puoi pagare il 24% esattamente come l'IRES per le grandi. Guardate che questo è molto importante per i piccoli. Questa è una notizia che quasi nessuno aveva scritto ed è una cosa di grandissimo impatto perché abbassa ulteriormente le tasse.